Comincia il più bel film della storia del cinema. Questo non lo vediamo dal 2008. Dal cinema. Non lo vediamo da quando siamo stati al cinema penso. Cioè io guarda credo di averlo visto una volta accidentalmente un pezzetto in tv. Ma non me lo ricordo neanche più. Ah già ecco questa cosa già. Ma il bello è che Spielberg aveva detto quasi niente. E l'inizio è in compito il grave. L'inizio è la fine. Temo che valga anche per lei signor colonnello. Il pentagono ha comunicato. Nessuno aveva visto la fila di soldati che si preparava. Era talmente grosso che li copriva. Una cosa che funziona solo se chi guarda ha una telecamera al posto degli occhi. Tra l'altro erano tutti nello stesso asse. Si inizia bene. Ah sono uscita tutta questa gente armata perché in The Angels cosa è tipo un supereroe che c'è bisogno di essere circondato in questo modo perché tipo Hulk potrebbe tirare un colpo mortale. Allora devono essere in tanti. Ma che roba. E' promosso colonnello dottor Irina Spalco. Tre volte ho ricevuto ordine di allenio. Nell'area 51 non c'era nessun altro a parte l'ingresso. No c'era solo il cabinato all'inizio. E' certo. Guarda sto costume ma non sembra un vecchio che ha il costume troppo largo. Questo è un piccolo assaggio di come sarà il nuovo guerra stellata. Purtroppo lo so sbatto anch'io. Negli anni 50 in un'area dove testano la bomba atomica possono arrivare dei russi in macchina senza che nessuno. Ma poi dove? Cioè neanche da dire vicino al Messico o vicino al Canada. Un'area militare nel mezzo del deserto che comunque è facile anche farsi notare che stai arrivando. O comunque che ci sono degli spostamenti non autorizzati. Di ben due o tre camion. Una macchina o un camion. Soprattutto nessuno si è accorto che questa cittadina della commedia è arrivato qualcuno con una macchina. Mi ricordo che al cinema questa cosa era così assurda che non l'avevo neanche capita. Perché adesso lui è in un frigo? La mia mente non aveva riuscito a seguire quel frigo. Guarda questo qui dentro il frigorifero ha subito delle tali accelerazioni che quando si sarebbe aperto usciva fuori tipo blob. Tipo il liquido se quello che esce fuori dai tremors morti. Stai volare testa di cazzo! Stai volare testa di cazzo! Se non sei lì nelle fiamme e va bene. E' tutto a posto. Ti lavano dopo e sei a posto. Lo riconosci bene proprio il personaggio quando vedi Harrison Ford in una maglietta bianca e una t-shirt. Ma guarda in Diana Jones. Così lo vedi? Mi sembra di più il fuggitivo quello che si chiama. Ti manca Tommy Lee Jones e sembra più un medico. Dategli una camicia. Qualcosa che ricordi Diana Jones per la miseria. Questo qui era il giorno in cui si era indisposto e non voleva vestirsi. Non c'era messo di farlo vestire. E si sono inventate la scena delle docce a emulazione di un film 007 per dargli la scusa dell'altro certo. Questa università è peggio di quelli italiani. Cioè c'è gente attaccata alla poltrona. Ci sono dei baroni che non se ne vanno male. Diana Jones è un barone dell'archeologia. Ci sono almeno 100 laureanti che stanno aspettando con ansia che vada via per occupare tutti i posti che occupa lui. Alcuni corsi non vengono, non sono più tenuti da anni perché non ha tempo di farlo. Guarda i rettori passano ma lui rimane. C'è una foto dall'ultima crociata. Chi gliel'ha scattata a Marcus quella foto? Questo attore che ha avuto il suo piccolo picco. E l'ha rovinato questo film? L'ha rovinato questo film? Sì, non si è più sentito. No no, dopo che hanno stuprato l'Indonesia, anche lui è stato stuprato ad una mostra d'arte in cui lui era il soggetto della mostra. Non sto scherzando. Stato a me è stata la maledizione di Luca. Se Luca in realtà se ne va in giro è uno iettatore pirando le armi. C'ha gli occhiali. Occhio malocchio, prezzemola e finocchio. Qui è quando per me era l'ultima scena carina e qui finisce ora c'è poi addirittura la moto in cui lui fa lo slittino con le scarpe da professore. Ecco, la protesta contro i comunisti. Fatta in America. Come fare una protesta contro i capitalisti in Russia nella Piazza Rossa lì tra. E' una cosa che facevano tra di loro. Da terra non si capiscono, ma dal cielo si. C'è tutto qui, ma cos'è? Alieni nuovi, rivelazioni, concentrato, ante l'Inter. Questo era nel trailer, non so se te lo ricordi. Dici, ma che è stato? Il silenzio degli innocenti. Ora qualcuno gli tira dello sperma a Indiana Jones. Non sei preoccupato per questo Oxley? Non so chi sia, per cui... Oxley non parlava del luogo di nascita di Orellana. Culla ha un altro significato in lingua maia. Letteralmente significa luogo di riposo, il luogo dell'eterno riposo. Oxley parlava della tua... In lingua maia. Ma sono indizi e enigmi che proprio... non ce ne è fottu' un cazzo. A differenza di quegli altri dove gli enigmi erano stati scritti da gente che aveva vissuto secoli prima. Esatto. Per cui avevano anche il fascino di dire chi l'ha scritta, vedete, l'ha lasciati per lasciare qualcosa ai posteri ma non palese. Certo. Qui ti chiedi, ma questo che era un loro contemporaneo? Non ti dico inviare un'email perché non c'era. Però una letterina la poteva lasciare, no? O fare una telefonata per informare qualcuno. Ma guarda che ambientazione, sembra una roba tipo, lo sai tipo, un villaggio fantasma. Sembra l'armata delle tenebre, un cimitero. Tipo dove sbuca una strega che urla. È una commedia. Ai ai, ha tirato la badilato in faccia. C'è anche la lambada in questo campo russo. I russi tipicamente si intratengono così. Ma che cosa stiamo vedendo? Specialmente il ballo tradizionale. Praticato da tutti in qualunque circostanza. Cosa sono sabbie mobili? È una fossa di sabbie asciutte. Le sabbie mobili sono un misto di sabbia, fango e acqua. Mamma mia. Sai che per uscire le sabbie mobili bisogna camminare all'indietro? Lo avevo sentito? Ah, su quel quark. Su quel quark quando erano andati a... In Francia. In Francia eravamo a San Michel che diceva che quando ti trovi qui devi camminare. Ma lo sta usando di proposito un serpente. Ma deve farci ridere. Sì sì, è un momento commedia. Non ti fa ridere. Ma lo sta buttando in faccia. Ma che roba? Guarda, io avrei aggiunto tipo Prometheus. Il serpente finisce in bocca. Ah, è il Dada Jones. No, no. Io avrei aggiunto gli schiaffi quelli... Da Bud Spence. Da Bud Spence. Da Bud Spence. Beh, poi ancora un rumore da papelissima. Ma il serpente è diamiato. Ha tirato fuori un uomo adulto di quella stanza dalle sabbie mobili. Ah, che noia, sopra. Di tutti e tre Dada Jones quello è il mio preferito. Secondo me è perché c'è Sean Connery. Esatto, esatto. Che in questo ha avuto la lungimianza di dire No, no, io continuo a fare golf in Spagna. Piuttosto che rovinarmi la faccia con questo. Ma certo. Poi con Lucas. Che dopo che... Lucas che ha fatto solo Guerre Stellare in tutta la sua vita. Cioè, che regista. Sì, vabbè, no. Le altre cose le ha finanziate. O ci ha messo bocca e faceva meglio stare zi. Sì, perché no. Quello che ha fatto prima non è manco Lucas. Cioè, sono una persona che è morta. È tipo Darth Vader. Il Lucas di oggi ha ucciso il Lucas di una volta. Hai capito? E adesso è più una macchina. È più una macchina che deve essere una. È una macchina macchina a soldi. E neanche più di tanto. Ci sono che ha fatto fallimento. Si è rotta, è come Darth Vader. Alla fine anche lui si è guastato. Le armi russe tipicamente si inceppano. Tipicamente. E quindi, invece di chiedere l'arma a un altro, si ricorre alla spada, ovviamente. Tutta quella storia sulla scuola di schermo per fare questa cosa. Abominevole. Lo stai preso su dentro! Rispondi! Non è un... Ma te stai guidando dopo questo gioco. Nella foresta amazzonica. Vabbè è l'autostrada di Gink? Che ce lo chiediamo a fare ormai. Si era l'autostrada. Che ridere, c'è una scimmia. Sai, per i bambini. Certo. Bisogna pensare anche ai bambini. Certo. Ora lui riuscirà, a forza di Liana, a raggiungere... Guarda, è spazio aperto. È proprio uno svincolo autostradale. Si, lui riuscirà oggi a raggiungere le jeep che intanto... Vado in campo aperto e vorrei anche far notare. C'entrano tre macchine. La roba era lì in campo. Facciamo una cosa in campo. Dicava una roba stretta come l'A1 sull'Appennino. Guarda che strapiombo in CGI. Quando vedi tutta questa roba in CGI proprio senti la tensione. Potrebbero cadere nello strapiombo. Esatto, esatto. Un momento l'altro. Hai visto la scorciatura dove la portate? Sì. Hanno fatto tutto un giro pesca per ritornare allo stesso punto. Sì, sì. In realtà stanno girando intorno. La stessa cosa è. È un rondò e vanno davanti e indietro. No, è l'anulare. È un accordo anulare. È un accordo anulare. È un accordo anulare di indietro. È un accordo anulare di indietro. Ma infatti se hanno fatto... Nella città d'oro potevano permettersi anche quello. Guarda con che rap... Però si è salvata. Però la scimmia si è salvata. Hai visto com'è? Manco le palle di far morire una scimmia, cazzo. No, la scimmia in 3D3. Ah, che noia sopra. Ma sarebbero morti tutti in questo istante. Eh, no. Non si sono abbassati. Non si sono abbassati così. E le ruote sono passate pari pari sul bordo e mi hanno morto adesso. Non poteva colpirli con la Jeep, per esempio. Si, investirli. O sparare. Sparare. Hanno finito tutti i proiettili. La Russia ne dà pochi, sai? Si, si, certo. Guarda. Eh, ora invece ci sono. Ora ci sono per tutti. E l'alluminio di quelle macchine... Eh... Titanio rinforzato. Ah, guarda, le formiche evitano il teschio. E vedi, il teschio ha creato l'isolanti formiche. Il magnetismo del teschio. I poteri degli areni rispetto a quelli di Dio nell'ultimo crociato o nell'arca. Guarda, lasciano del tutto indifferenti. Perché tra l'altro il santo graal che dava l'immortalità... Comunque fino all'ultimo istante era affascinante perché te dentro di te pensavi... Ma vivere lì in eterno... O morire. O morire però ovviamente liberi fuori. Cioè comunque poneva anche dei dilemma interessanti. Ma comunque in un universo in cui Dio esiste. E certo. E ne abbiamo viste le... Sì, di tutti i colori. Dopo aver visto quello che avessi segnalato... Sicuramente non è più agnostico. E certo, assolutamente. Adesso che esistano gli alieni... Ma ci lasciamo più indifferenti. Anche lui consumato da queste formiche. Mi sembra quella copertina di quel film di Stephen King. Con i ratti che entrano in bocca. Stai guardare... È il tuo primo sbadiglio. E ora questa gente che vive... Ma cos'è? Conosso qua la cenata. La gente chiusa dietro le pareti. Ma era tipo la monaca di Monza il picchio. Cioè ma che roba è? Ora si stacca un meccanismo da incredible machine. Sì vabbè. Ma si sono sollevati degli obelischi di pietra. La stai vedendo anche te questa cosa? Sì. Guarda che meccanismo! Un altro meccanismo che poi non si può più ripristinare. Ah non so che dirti. Poi soprattutto la tecnologia aliena ha costruito una cosa simile. Sì sì. Come se ora noi per entrare in casa mettiamo una cosa natura e si spossa. Certo. Anzi facciamo una cassaforte con delle pietre che della sabbia fuoriesce. Si chiudono degli obelischi e poi puoi accedere ai soldi dentro alla cassaforte. Perché no? Nelle banche di solito è così. Questa è la parte che preferisci tu? Sì sì questa è la mia preferita. Questo è il consiglio dei dieci assenti. Sì esatto. Dimmi tutto quello che... Gli alieni non capiscono i modi di dire. No no sono i miei franci non capisco il metalinguaggio. Gli ha detto voglio sapere tutto e lui le ha detto. Sì no. Cioè letteralmente. Ho un brutto presentimento. Perché? Qual è il motivo che dovrebbe essere un brutto presentimento? Perché lui è Indiana Jones. Al contrario dell'arca in cui lui chiedeva gli occhi perché comunque un archeologo che magari conosceva la leggenda. Certo certo. Qui che cazzo ne sa di quello che sta per succedere? Ma non sanno niente. Però questo teschio riunirà i dieci assenti in una sola entità. Certo certo. E poi la carne come la costruisce dal cristallo? Eh no no ma perché vedi. Più le aggiunge e vedi più prende forma. Eh vabbè ho capicato. Perché è una cosa filosofica. Ogni volta perdi uno scheletro perdi un pezzo della tua carne. Capito? È tipo Voldemort. Ogni volta che uccide qualcuno spezza la propria carne. Ma dici che Lucas ha detto Voldemort ha avuto successo. Io lo farò meglio. Guarda anche un po' ci assomiglia. Non ha il naso. Guarda. Ma che è? Lo faccio uguale. Una comunicazione oserei dire facciata. Sono andati nello spazio. Non nello spazio. Nello spazio fra gli spazi. Nello spazio fra gli spazi. Nello spazio fra gli spazi. Sono le divinità quelle di Lucrezio che vivevano negli inframondi. Nei mondi tra i mondi. Cioè ma... Perché la musica del Graal adesso? Perché come in tutti i film nuovi non si compone più nulla di nuovo. No. Bisogna riutilizzare quello che c'era prima. Perché comporre una musica nuova memorabile di Indiana Jones? No. Li utilizziamo? Forse perché è il tema del padre e del figlio. Capito? Non è vero. Era il tema del Cavaliere. Eh sì. Ma non c'entra niente. Adesso per fare una caca colossale c'è il doppio finale. Perché il film finisce adesso. Sì. È quello che è stata proprio la mia morte. Una bugnerata finale. Sì. Ecco. Con la camminata d'anziano che si è rotto la banca di Harrison Ford. Ma che tristezza totale. Mi ricordo la chiesa quella delle streghe disc. Ora ci manca solo il diabo. Ci vuole qualcuno che vomita. Sì vomita. Ciliegie. Ed è coperto di punta. Oh che bello. Indiana Jones sposato è quello che tutti volevamo. Guarda si spalancano le porte. Ora entra spinto da delle piume il diabo. Entra Jack Nichols. Ora arriva la camminata da 8 a genuario di Harrison Ford. Con la mano in tasca. Se la può fare. Se la può fare. E si trascinarà la vita di te. Occhia. Occhia a non romperti un anjo. Poi guarda. È un corteo di vecchi. Una depressione. Sembra. 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 Dopo ci sarà un funeral. Nello stesso. Nello stesso. Di qualcuno. Di loro. Durante il pranzo muore. Sembra. Sembra. Sembra che adesso vanno tutti alla casa di riposo. Tipo. No. Finale triste. Poi arriva. In Daniel Johnson. A questo punto mi aspetto. E Marion gli fa. E ora dove andiamo? Nella mia camera. Nella casa di riposo. Si è liberato un letto. Era lì uno che è morto. Ieri mattina. Se vuoi. Vieni anche lì. Un Take thing. Si è liberato. Ti ricordi Geodiatric Park? Quello. Della polota spuntata. Con il vecchio che pigiava. Ma. Se non riescono a respirare. Una reazione. Totalmente opposta. a quella del cinema. in cui eravamo a Libia ricordi ci andavamo tutti in un maestro silenzio quasi un funerale ma non solo noi anche tu sai come se avessero annunciato la guerra domani non sai se se piangere o disperarti e non dici nulla perché non hai parole di fronte all'orrore alla prossima Oh per Diana, che cazzata!